Il comune di Chieti è senza il becco di un quattrino. C'è disperato bisogno di liquidità ma il sindaco Ferrara si dice ottimista, benché non si aspettasse di trovare una tale situazione finanziaria. Chieti è indebitata per 47 milioni di euro. A questi si aggiungono circa 9 milioni per i contenziosi attivati, arrivando così a 56 milioni di disavanzo. Vi è poi la questione di teatreservizi, la società di riscossione delle tasse, partecipata al 100% dal comune, riguardo cui la Corte dei Conti ha denunciato gravi irregolarità. Per quando riguarda teatreservizi il problema strutturale è quello dell'incapacità totale, cioè dell'incapacità di riscossione globale dei tributi. In pochi mesi si sono avvicendati tre amministratori unici alla guida di teatreservizi ma quest'ultimo, sicura il primo cittadino, dovrebbe rimanere al suo posto. Per far fronte alla crisi finanziaria Ferrara ha dichiarato che non alzerà le tasse, che sono già al massimo, ma chiederà un rifinanziamento alla Corte dei Conti. Chiederemo alla Corte dei Conti la possibilità di fare un programma di recupero pluriennale, quindi di un predissesto. Suppongo che abbiamo le carte perché la Corte dei Conti ci accordi questa possibilità. Ma ogni finanziamento ha un costo da pagare. Gli interessi passivi sulle anticipazioni del tesoriere nel quadriennio 2015-2018 hanno già superato il milione di euro. Lavoraggine nei Conti e l'eredità del centrodestra, tuona il segretario regionale del PD Michelefina. Ma Ferrara è di altro avviso e non entra in polemica. Ma anzi riconosce che quel prestito da 14 milioni e mezzo e il conseguente debito contratto da di primio con cassa depositi e prestiti, a due giorni dallo scadere del suo mandato, era dopotutto necessario, considerando la mancanza di liquidità. Sicuramente se il mio predecessore l'ha fatto era perché serviva liquidità. È indubbio che è un altro macigno, però evidentemente se l'ha fatto in quel momento, in quel momento serviva.